Bravissima Maria Pia, sei emozionata? No, non so Sei tranquilla? No, non so Quanti anni hai? Undici anni Undici anni, ma è la prima volta che ti esibisci? No, è la seconda volta Sempre con la stessa canzone oppure? No, mi la posso Va bene, grazie Maria Pia Adesso è arrivato un momento molto importante Perché la nostra valletta Gerardina dovrà scegliere una persona tra il pubblico Non so se c'è qualcuno che si offre volontario perché dovremmo fare l'estrazione E quindi ci serve la valletta del pubblico Adesso Gerardina scende e se c'è qualche volontaria si faccia avanti Ma chi è questa bella bimba? C'è anche un'altra bimba qui Oh mio Dio Ma da dove sbucano? Che bella Ma tu come ti chiami? Pimpi Ma che bella E tu? Lina Ma chi ti ha fatto salire qui? Così siamo saliti No, non piangere No, 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 non piangere Daniele fa qualcosa Non le fa piangere, ti prego Vabbè, vabbè Allora, adesso dobbiamo fare l'astrazione Ok, tu l'ha detta Sì, 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 sì E cosa c'entra? Bianca Ho paura Ho paura di cosa, non ti mangi No, 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 no Ma per favore fate un applauso di corazzoletto a questa bella bimba L'altra bimba cosa ci dice? Ti ho tanto paura, voglio la mamma Anche tu? Ma non dovete avere paura Venite avanti, fatemi vedere Dov'è la tua mamma? Non c'è Non è venuta a vedere No, perché io sono scappata da casa Mannaggia, è scappata di casa Vogliamo fare le stazioni così me ne vado a casa Va bene, accontentiamola Ma la nostra valletta dove sta? Gerardina Hai trovato la valletta? No? Su ragazze Ah, l'ha trovata Ti piace la nuova valletta? No, è brutto Ma come è brutto? Non si dice È brutto, bruttissimo Eh vabbè, scusiamola, è piccola Accogliamo con applauso le nostre vallette